Mondo Convenienza mobili da ingresso, i modelli al miglior prezzo. Mondo Convenienza offre mobili da ingresso eleganti e funzionali, ideali per piccoli spazi senza sacrificare design e qualità. Con la linea Line offre un baule contenitore versatile con chiusura soft, ideale per massimizzare l'organizzazione nello spazio di ingresso. La scarpiera BASIC, con vani capienti, coniuga estetica e praticità, essendo perfetta per mantenere organizzato l'ingresso di casa. Per chi ha spazio limitato, il mobile con specchiera integrata è un'ottima scelta compatta e multifunzionale. Grazie a tutti!